Il campionato di Serie A arriva alla sua ottantesima edizione, un traguardo importante anche se il calcio italiano non se la passa bene. I posti per la Champions League si riducono a tre con soli due accessi diretti. Calendario compresso con molti turni infrasettimanali. A giugno ci sono gli europei a metà tra Polonia e Ucraina ai quali parteciperà la nazionale di Cesare Prandelli. Il Milan campione uscente e il principale favorito per il bis. La squadra rossonera si affida ancora a Massimiliano Allegri, confermati i big. A completare la rosa arrivano Alberto Aquilani e Antonio Nocerini. L'Inter volta pagina. La rinascita parte da Giampiero Gasperini e dal suo 4-3-3. Va via Eto'o e arrivano Ricky Alvarez e il centravanti Diego Forlan, leader della nazionale uruguayana. La Juventus ci crede. Innesti di qualità in ogni reparto. Dick Steiner per la difesa, Arturo Vidal a centrocampo e Mirko Vucinici per l'attacco. Polce Andrea Pirlo, ingaggiato a costo zero dal Milan, una scommessa. La panchina è affidata al vecchio cuore bianconero Antonio Conte, che ha appena riportato in Serie A il Siena. Il Napoli di De Laurentiis e di mister Mazzari in debutta in Champions. Sotto il Vesuvi arrivano l'ex udinese Hiller e il centravanti Goran Pandev. La Roma si affida al tecnico spagnolo Luis Enrique, prende l'attaccante Pablo Osvaldo e scommette su tre giovani. La Mela, Bojan e Pjanic. La Lazio acquista il portiere Marchetti e porta in Italia Miroslav Close, super bomber mondiale. Consueto antipasto stagionale con la Supercoppa italiana. Finale a Pechino, vince il Milan sull'Inter. E mentre tutto sembra pronto per la partenza della corsa scudetto prevista per l'ultimo weekend di agosto, arriva lo sciopero dei calciatori. Sul tavolo questioni contrattuali. Infuriano le polemiche e le proteste. La Serie A si blocca e viene rimandata a settembre. Il campionato inizia con le partite in programma per la seconda giornata. La prima verrà recuperata a dicembre. La neopromossa Atalanta parte con una penalizzazione di sei punti. Scandalo del calcio scommesse in primo piano. Pesanti le decisioni prese oggi dalla commissione disciplinare della FIGC. Come era previsto, piccolo sconto per l'Atalanta che passa da sette a sei punti di penalizzazione nel prossimo campionato di Serie A. L'avvio è diluito in tre giorni. Apre la stagione il Milan e che venerdì 9 settembre fa due a due in casa con la Lazio. Il giorno dopo il Napoli si prende i tre punti a Cesena. Si gioca su un terreno sintetico. È la prima volta per la Serie A. Anche il campo del Novara che torna in A dopo oltre 50 anni è in erba artificiale. Domenica 11 settembre si completa il calendario. Ottimo avvio per l'Udinese che vince a Lecce e per la Fiorentina di Mihalovic che supera il Bologna. Fa rumore il tonfo dell'Inter sconfitto per 4-3 dal Palermo che Zamparini ha affidato all'ex allenatore della primavera Davis Mangia, un debuttante assoluto. L'allenatore più felice d'Italia, le notizie sono due, l'artefice del successo sull'Inter e lei e conserva la panchina almeno per un po'. Sì, dicevo prima ai suoi colleghi, un'altra la faccio, un'altra la faccio sicuro. No, l'artefice non sono io perché io ho chiesto delle cose però questi ragazzi qua hanno fatto una grandissima partita. Entusiasmo in casa Juventus per il secco 4-1 rifilato al Parma. Si gioca lo Juventus Stadium inaugurato pochi giorni prima e di proprietà della società bianconera. L'importante è iniziare bene, è stato un ottimo giorno davanti ai tifosi, allo stadio nuovo quindi era fondamentale fare questa partita. Bella, anzi forse bellissima. Lo chiedo subito a Claudio Ranieri. Certo che un Pirlo straordinario, si sapeva. Beh, Pirlo ha fatto una gran partita, è stato lasciato solo per buona parte della gara e si è visto quello che è riuscito a fare. Sì, è stato troppo facile per la Juventus però la Juventus è una fior di squadra Conte ha la possibilità di variare i suoi uomini per cui può fare benissimo il 4-2-4, 4-4-2 a secondo dell'avversario. Dopo i primi quattro turni effettivi la Juventus si porta al comando della classifica. Non è sola, ma c'è. Vince a Siena, poi pareggia per due volte con Bologna e Catania. Per Antonio Conte, comunque, c'è ancora molto da lavorare. Con la Juventus c'è l'Udinese di Antonio Di Natale. I suoi gol valgono punti d'oro per la formazione di Guidolin che è la vigilia della sesta giornata e prima con 8 punti. Tenteremo di fare un buon campionato. Il nostro primo passaggio è il nostro primo obiettivo. Come sempre, lo era anche l'anno scorso. È un passaggio, se possibile, sereno ai 40 punti e poi vedremo cosa succederà. Ad una lunghezza, dalla coppia bianconera di testa, c'è un plotone variegato. C'è il Napoli di Cavani che ne fa tre al Milan. La quarta tripletta in Serie A con i Napoli per il Matador. Il chievo del centravanti Naif Moscardelli. Il Genoa di Palassio. Il Cagliari di Mister Ficcadenti. E' la Fiorentina del talentuoso Jovetice. Chiude il Palermo del mini bomber Miccoli. E' il segnale di un campionato pazzo ed emozionante. Le grandi franano. Le piccole vivono un esaltante momento di gloria. Martedì 20 settembre 2011. Anticipo serale della quarta giornata. Il neopromosso Novara affonda l'Inter per 3-1. Il colpo è durissimo per i neroazzurri. Paga per tutti i Gasperini che lascia il posto a Claudio Ranieri. Da 20 minuti non è più il commentatore di questa stagione per Rai Sport. E' il nuovo allenatore dell'Inter Claudio Ranieri. Buonasera Claudio. Buonasera a voi tutti. Ciao Claudio, buonasera. Quale sarà il primo intervento che farai? Sulle gambe, sui muscoli o sulla testa di questa squadra? O sul fatto tattico? Io credo che bisognerà parlare un po' con tutta la squadra. Capire bene il perché e il per come. Di solito quando si cambia un allenatore c'è sempre un po' di tutto. Ma l'aspetto mentale è la cosa più importante. La scossa è forte. I neroazzurri reagiscono vincendo a Bologna. Ma l'aria è sempre pesante. Il Milan è campione, è in panne. La legnata con il Napoli lascia segni pesanti. Il Sharawi realizza il suo primo gol a Udine. Ma è solo pari. La prima vittoria arriva alla quinta giornata. Per Allegri la strada è in salita. Domenica sera il test della verità nel nuovo stadio della Juventus. Quando potrebbe rivedersi Ibre Imoici in campo? Stella cometa del cammino rosso-nero. Lazio e Roma ancora non convincono. Nel Siena fa capolino Mattia destro. Buone notizie da Bergamo dove l'Atalanta ha annullato all'handicap iniziale ed è a più 4. Termina così. 2-1. Amarezza per il Novara. Mezza gioia per l'Atalanta che senza penalizzazione ora sarebbe a 10 punti. Prima in classifica e sopra tutte. Pensa che è là. Non so quando mi ricapiterà di essere primo in Serie A e non poterlo festeggiare bene perché la classifica dice 4. La classifica, eccoci qua. Allora, in testa Juventus e Udinese con 8 punti. A 7 punti troviamo tantissime squadre. Genova, Napoli, Fiorentina, Palermo, Cagliari e Chievo. Se ne va a settembre. La corsa a Scudetto si preannuncia incerta e ricca di colpi di scena alla vigilia della giornata numero 6. Il match di cartello è la sfida tra Juventus e Milan. Nelle altre gare da registrare il clamoroso tonfo casalingo dell'Inter sconfitto 3-0 dal Napoli. L'esplodio Vincu, nuova stella del Parma. La conferma dell'Udinese. Il riscatto delle Romane. E il piro tecnico 3-3 tra Novara e Catania. Da questa stagione, allenato da Montella. Allo stadium Conte propone una Juventus inedita con un 4-1-4-1. Juventus con Buffon, Listeiner, Barzagli, Bonucci, la novità Chiellini sulla sinistra. Pirlo, il grande ex, Krasic, Marchisio, Vidal, Pepe, Vucinic, unica punta. Il Milan risponde con Abbiati, Bonera, Nesta, Tiago Silva e Zambrotta, Nocerino, Van Bommel, Sedorf. Boateng non è al meglio, ma c'è Cassano e Ibrahimovic. La Juve merita la vittoria che arriva solo nel finale grazie ad una doppietta di Claudio Marchisio, uno degli uomini più in forma tra i bianconeri. Ed è 2-0 per la formazione di Conte che non sta più nella pelle. Juve Udinese prime a 11 punti dopo 5 gare. I ritmi del campionato non sono alti, anche chi adesso è distante dalla vittà può sperare. E già nel turno successivo il Milan si scuote e travolge il Palermo per 3-0 mentre Juve Udinese pareggiano. Il Napoli perde in casa con il Parma, ma la notizia è la nuova sconfitta dell'Inter a Catania. A Piano Gentile questa mattina si presentava così. Nessuna contestazione, ma neppure nessuna forma di affetto o di incitamento per un Inter, che sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia. Delusione. Nell'anticipo serale il popolo laziale esulta per il derby strappato alla Roma, con un gol in pieno recupero di Close. 47 e 43 secondi. E il tocco di Close ancora una volta decisivo. Derby a due volti. La Roma nel primo tempo, ma la ripresa solo ed esclusivamente. A tutta Lazio, a voi studio. Grazie a Marco Civoli. Quindi la Lazio esce vincitrice da questo derby. Erano cinque derby vinti dalla Roma. Il primo derby per Reia. La corsa a Scudetto procede a velocità ridotta quando si arriva alla vigilia dell'ottava giornata, in programma tra le 22 e il 23 ottobre. Gli Uve Odinese comandano con 12 punti. Giocano entrambi in casa. Gli uomini di Conte ospitiano il Genoa. Di Natale e compagni ricevono il Novara. Il Milan va a Lecce. L'Inter se la vede in casa con il Chievo. Turno interessante, che potrebbe dare una prima svolta alla stagione. Tutto il calcio, minuto per minuto. GTV, ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. Ottava giornata del campionato di Serie A con gol a grappoli nei tre canonici anticipi. Ieri 2-2 fra Fiorentina e Catania e stesso punteggio per il pareggio fra Juventus e Genoa. Mentre nella partita ora pasti della domenica appena terminata, il Milan ha vinto a Lecce per 4-3 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di tre reti. Allegri può sorridere. La vetta è sempre più vicina. Mastica Amaro invece di Francesco, che ha solo accarezzato un successo di prestigio. 4 partite interne, 4 sconfitte. La strada che porta verso la salvezza è sempre più in salita. Abbiamo dunque i finali di tutti i primi tempi e riprendiamo come sempre ricordando la situazione. Cagliari. Cagliari 0, Napoli 0, Udine. Udinese 2, Novara 0, Roma. Roma 1, Palermo 0, le squadre stanno tornando adesso in campo. Milano. Squadre in campo anche a Milano, Inter 1, Chievo 0, Parma. Sta per iniziare la ripresa, Parma 0, Atalanta 0, Siena. Anche a Siena la ripresa sta per cominciare, Siena 1, Cesena 0, studio. Comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Cagliari, Napoli, Riccardo Cucchi. Le squadre rientrano in campo adesso 0 a 0, ma tre legni, due per i Cagliari con Nenè e Nengolan che hanno colpito la traversa e uno per il Napoli con l'Avecci che ha colpito il palo. Un primo tempo divertente anche se il Napoli appare stanco e il Cagliari poco intraprendente. Attenzione, Udinese 3, Novara 0, direttamente sul calcio di punizione, bellissimo gol di Totò di Natale. Attenzione, il raddoppio del Siena con il gol di Calaio all'ottavo minuto, Siena 2, Cesena 0. Atalanta in vantaggio sull'inviluppo di un contropiede, il piccolo Morales ha sfruttato un passaggio raso terra dalla destra, insaccato centralmente, Parma 0, Atalanta 1, Cucchi. D'accordo Raffa, intanto il tecnico della formazione partonopea, effetto è il primo cambio della giornata. Raddoppio dell'Atalanta, ancora Morales che ha sfruttato un'indecisione della difesa del Parma e da meno di due metri in diagonale ha messo il pallone a raso terra, Parma 0, Atalanta 2, a voi. Cagliari-Napoli. Nulla di fatto, ma dobbiamo dire che la partita si è di nuovo riaccesa. È la mezz'ora, il parziale non cambia, 0-0, linea di Udine. A Udine siamo ormai al 33esimo minuto della ripresa, nulla da segnalare, Udinese che è dilagante, 3-0 sul Novara. Gol di Valdesse al minuto 34, quindi si riapre la partita, Parma 1, Atalanta 2. Il finale del Franchi, il Siena ha battuto il Cesena per due reti a 0. Udine, Udinese 3, Novara 0, Roma. L'arbitro fischia la fine, Roma batte Palermo 1-0, vittoria soffertissima per i giallorossi, linea Milano. E a Milano finisce la partita, l'Inter ha battuto il Chievo per 1-0, Cucchi. Finisce in parità la sfida tra Cagliari e Napoli, 0-0, linea Provenzali. Lazio e Bologna hanno una partita in meno, è il posticipo di questa sera che comincerà alle 20.45 a Bologna. Dirige la partita D'Amato ed è subito Lazio. Punizione violenta, c'è la deviazione di Robert Lazio in vantaggio. Sempre pericoloso il Bologna con Ramirez su calcio di punizione, siamo alla 34esimo minuto. Ancora Ramirez, sempre il sinistro ma sempre Marchetti tra i migliori questa sera della sua squadra. Andiamo alla ripresa, 2 minuti e 49 secondi. Sisse, l'imbucata per Lulic, la palla che passa sotto le gambe di Portanova. Terza vittoria in trasferta tra Lazio dopo Cesena e Firenze. Schiena e classifica ben diritta, ora seconda alle spalle dell'Udinese. Questo è un altro esame che possiamo dire è passato ed è stato ben superato dalla formazione di Rea. A te Paola. Grazie Marco Civoli. Allora andiamo subito insieme a vedere la classifica. Che vede in testa da solo all'Udinese di Guidolin con 15 punti. E poi la Lazio, come diceva Marco Civoli, con questa vittoria si porta al secondo posto con 14 punti. Poi la Juventus con 13, il Cagliari con 12. A 11 punti troviamo Napoli, Roma e Milan. L'Udinese sfugge alla Juventus e la Lazio conquista il secondo posto. Questo il clamoroso esito dell'ottava giornata. Ma il sogno dei friulani dura pochi giorni. Nel successivo turno infrasettimanale gli uomini di Guidolin cedono di schianto al Napoli. Mentre la Juve batte la Fiorentina. Primo posto solitario per Buffon e Soci che consolidano il primato il sabato successivo con la fondamentale vittoria a San Siro contro l'Inter. 2-1 per la Juve. Reti tutte nel primo tempo. Noi dobbiamo credere a qualcosa di importantissimo, che è il lavoro. Questa è la cosa che noi dobbiamo credere, anzi dobbiamo continuare a credere perché i ragazzi già lo fanno. Ci dobbiamo ancora continuare a credere di più perché è l'unico modo per cercare di riportare la Juventus dove merita. L'Udinese reagisce con il solito di Natale. Si mantiene in scia della capolista, a braccetto con la Lazio, che ha un rendimento migliore quando giochi in trasferta. Il Milan si scuote. Antonio Nocirino è il goleador che non ti aspetti. Il resto lo fa il solito Ibrahimović. Se continuiamo così lo vedo il futuro molto bene. Il Catania è la sorpresa della parte alta della classifica. Bergessio è bomber efficace e puntuale. Su il gol decisivo nella vittoria a Casalinda con il Napoli ha ciuffato al quinto posto. Non solo la squadra di Montella tra le belle realtà di provincia di questo campionato. Riflettori puntati anche sulle Siena dove splende la coppia gol destro Calaiò. E nel recupero altro schiaffo di Emanuele Calaiò, quinta gioia in campionato, che non voleva certo mancare alla festa come nelle migliori giornate del Paglio. A fare i spenti procede l'Inter che dopo la sconfitta interna con la Juve precipita in piena zona retrocessione insieme a Novara, Lecce e Alcesena che dall'inizio del campionato non ha mai abbandonato l'ultimo posto. E mentre il popolo nerazzurro si interroga sul futuro della squadra il campionato è scosso dalla notizia del malore che colpisce Antonio Cassano e che tiene con il fiato sospeso tutti gli appassionati. 29 ottobre 2011 L'aereo che riporta il Milan dalla vittoriosa trasferta di Roma è da poco atterrato alla Malpensa. Mancano pochi minuti alla mezzanotte. Sembra un normale rientro notturno dopo il posticipo serale giocato lontano da casa. Così non è. Antonio Cassano non sta bene. Giramenti di testa La vista si annebbia Le parole escono a fatica Affaticamento Stanchezza Stress Contro i giallorossi Cassano ha giocato 20 minuti scarsi gli ultimi Tutto nella norma il solito Cassano Ma il dolore non passa Il malore si aggrava nel giro di poche ore Lo staff medico del Milan si allerta Il giocatore viene accompagnato al pronto soccorso del Policlinico di Milano Sono attimi di assoluta tensione e di paura Iniziano a circolare voci incontrollate sulle condizioni del giocatore Le ultime notizie che mi passa anche Paolo Arcaro oltre al nostro inviato Mi parlano di una preoccupazione Perché i sintomi potrebbero far pensare a un lieve ictus per Cassano Però andiamo subito da Luca De Capitani Per sapere in diretta le ultime notizie Luca De Capitani è proprio davanti al Policlinico di Milano Dove è ricoverato Antonio Cassano A te Luca Sì per dirvi che è stato sottoposto a tutta la classica batteria di esami Del sangue, dell'ecocardiogramma e appunto altri esami specifici E poi si è deciso di ricoverarlo in neurologia qui al Policlinico Ora ci dicono che Cassano sta dormendo Alcuni pazienti con i quali abbiamo potuto parlare Ci hanno detto che l'hanno visto camminare Anche se aiutato da alcuni assistenti Di sicuro c'è davvero davvero poco in questo momento Sulle condizioni di Antonio Cassano Dalla Milan fa trasparire un certo nervosismo Ma soprattutto una certa preoccupazione È ormai chiaro che non solo Cassano non partirà per Minsk Domani insieme al resto della squadra Ma per lui si profila uno stop precauzionale Da qualsiasi attività sportiva Questo può voler dire tutto o nulla come voi ben sapete L'angoscia sale C'è da capire il perché del malore C'è da capire se ha fatto danni e in che misura C'è da capire se un giorno potrà tornare a giocare oppure no Per le ultimissime in loco c'è Francesco Rocchi Francesco Buongiorno dal Policlinico di Milano Continuano gli accertamenti per Antonio Cassano Ma io direi di farvi vedere subito le immagini registrate Pochi istanti fa Dell'arrivo della famiglia di Cassano Della madre e della moglie Vedete, lo state vedendo Una signora, la signora Giovanna Visibilmente scossa Questo ha testimonianze evidentemente Che la situazione pare essere seria Perché al momento non si conoscono ancora I motivi del malessere di Cassano Piccolo ictus ischemico transitorio Questo è il risponso dopo i primi esami La causa è un'anomalia cardiaca Si tira un sospiro di sollievo La paura vera passa Il mondo del calcio si stringe attorno al campione barese Il pomeriggio si è aperto con la visita di Lapo Elcana Poi la volta della moglie Carolina Che si è fermata circa tre ore È stato anche il pomeriggio dei compagni di squadra E non solo Pato, Antonini, Giampaolo Pazzini appunto E Marco Materazzi Sono arrivati anche i tifosi rossoneri Con uno striscione che invita Pantantonio a non mollare Il problema è congenito Si può intervenire chirurgicamente L'intervento non appare complesso Sarà il professor Mario Carminati Primario di cardiologia Dei difetti congeniti del Policlinico Sandonato ad operare con la sua equipa Il giocatore qui al Policlinico Si tratta di una procedura di cardiologia interventistica In anestesia locale Per chiudere il foro tra i due atri Causa del malessere del giocatore L'operazione, ricordiamo, non dovrebbe durare più di 15 minuti Insomma, questo fa almeno sperare tutti i tifosi di Antonio Cassano Di poterlo rivedere con la maglia azzurra Almeno ai prossimi europei di giugno 2012 A questa speranza si associa anche il tecnico Massimiliano Allegri E il suo compagno di squadra Alexander Pato Quando ho potuto andare sono andato subito anche insieme a Antonini Siamo stati lì quasi un'ora a parlare con lui A scherzare di solito Io ho visto lui molto tranquillo E speriamo che domani Corra tutto bene questo intervento Che lui possa tornare il più presto possibile Il 4 novembre Cassano viene operato Gli viene inserito un minuscolo ombrellino Antonio Cassano è stato operato al cuore al Policlinico di Milano Tutto bene, intervento riuscito Sentiamo Donatella Scarnati Guarisci presto Su Facebook è solo una delle infinite pagine Dedicate ad Antonio Cassano Che stamattina è entrato in sala operatoria Affinché fosse eliminata quell'anomalia cardiaca Che gli avrebbe provocato l'ictus ischemico L'intervento perfettamente riuscito È finito alle 8.35 Antonio sta bene Si legge in un comunicato reso noto dal Milan E nei prossimi giorni verrà sottoposto ad esami di controllo Sulla base dei quali si stabilirà Quando potrà tornare a casa La guarigione è perfetta Torna alla vita Cassano E il 7 aprile 2012 torna anche a giocare Per lui gli ultimi 6 minuti di Milan-Fiorentina Applaudito da San Siro E da tutti gli stadi d'Italia Mi vengono i brividi a ripensarci Quella giornata è iniziata bene Abbiamo vinto Io pensavo di giocare Ma il mister ha fatto altre scelte Sull'aereo ho fatto un disastro Volevo guidare l'aereo Quando sono sceso dall'aereo Sull'autobus Mi sono reso conto di non vedere bene Il dottore mi voleva portare in ospedale Ma io volevo andare a casa Nel tragitto per andare in ospedale Pensavo tante cose Ma non riuscivo a parlare Ho pensato a mio figlio Mi son detto che dovevo vivere Per rivedere almeno per l'ultima volta Mio figlio Il campionato va avanti E la Juventus Da una prima accelerata Dall'inizio del campionato Non c'è mai stata una sconfitta Antonio Conte si rivela essere l'uomo giusto Al posto giusto E in occasione del recupero Della partita con il Napoli Decide di schierare per la prima volta La sua squadra con tre difensori Cinque centrocampisti E due attaccanti Un sistema di gioco Che suscita curiosità Da capire se avrà un futuro Oppure no Intanto dopo 15 turni effettivi La Juventus è prima da sola in classifica Con 33 punti Milano Udinese e Seconde Sono a due lunghezze I rossoneri hanno superato I primi tormenti iniziali E hanno ben assorbito Lo sciocche per le vicende di Cassano Ibraimovic segna ripetizioni E garantisce punti preziosi Ibraimovic indovina l'angolo Nocerino è il miglior partner Di Mago Ibra Segna molto la squadra di Allegri Ben protetta da un centrocampo muscolare Da una difesa dove Tiago Silva Si conferma un fuoriclasse del ruolo L'Udinese non molla Totò di Natale impressiona Per la facilità e puntualità Con cui arriva il gol Dusan Bassan Floro Flores e Pinzi Realizzano reti pesantissime Podio per Maurizio Isla Che spanca la San Siro Nero Azzurra Il 3 dicembre 2011 Con il gol partita al 73esimo Isla Mandato il pallone in rete Azione di contropiede da manuale E da parte degli uomini di Guidolin Dobbiamo dirlo meritatamente L'Inter nonostante la sconfitta interna Con i Trulani appare in ripresa Almeno sul piano dei risultati Vince spesso con il minimo scarto E con golle nei minuti finali Ma sono segnali incoraggianti La Lazio è stabile al quarto posto Una sola macchia La sconfitta interna con la Juve Per il resto buone prove E vittorie pesanti Close non delude E quando non segna lui Ci pensano Sculli E il sempreverde Tommaso Rocchi Il Catania di Montella Ancora nei piani alti Nonostante qualche battuta vuoto La vittoria nel derby con il Palermo Proietta gli etnei al sesto posto In compagnia di squadre Molto più blasonate Come Napoli Roma E Genova Con il Catania C'è la Roma di Luis Enrique Bojan ha giocate Davvero talento Osvaldo è un bomber spettacolare Piani ci realizza Il suo primo gol in campionato Con la maglia giallorossa Simplizio mette il sigillo Sul 3 a 1 esterno Contro il Napoli Spalletti stasera Proprio ha una nostra trasmissione Intervistato da Carlo Paris Ha detto due cose Che allenare a Roma È difficile ma meraviglioso E che Francesco Totti Se andasse via Sarebbe come se andasse via Il Colosseo Il Tevere La curva a sud Volevo prima di tutto Sapere se è d'accordo Su queste cose con Spalletti Difficile deve essere Perché tutti dicono lo stesso Che è difficile E dopo quello di Francesco Francesco è un riferimento È una cosa sempre importante per noi I partenopei frenano Dall'undicesima alla sedicesima giornata Gli azzurri di Mazzarri Vincono solo una volta Contro il Lecce Per il resto Quattro pareggi E la pesante caduta Al San Paolo Contro la Roma Difficile così Tenere vini I sogni scudetto Per il resto Il campionato propone Vecchi e nuovi protagonisti Denis trascina l'Atalanta Vittori Barbo E la nuova stella del Cagliari Il difensore Viola Gamberini Si scopre gola d'ordi giornata Marco Rossi È il capitano coraggioso Di un Genoa in cerca di riscatto Teruo è l'uomo in più del Chiero Nel Lecce Emerge il colombiano quadrato Mutu Tiene vive le speranze del Cesena Il campionato sta per giungere Al giro di Boa Nel frattempo Diverse panchine sono saltate Il Cesena ha esonerato Gian Paolo E lo ha sostituito con Arrigoni Il Cagliari Ha salutato Ficca Denti E ha dato il benvenuto a Ballardini Dallio Rossi Ha preso il posto di Mihalovic Ciala Fiorentina Cosmi ha fatto lo stesso Con Di Francesco a Lecce Non poteva mancare il Palermo Zamparini dopo il 2-0 subito Con il Catania Sostituisce Mangia Con Bortolo Mutti Il 2011 sta per finire L'ultimo atto del campionato Si consuma tra martedì 20 E mercoledì 21 dicembre Con il recupero Della prima giornata Buonasera e ben trovati All'anteprima dello speciale Novantesimo minuto Per il recupero Della prima giornata Del campionato di Serie A Una notte di fuochi D'artificio Il Milan Dopo il Cagliari 11 risultati utili consecutivi E una Ibra Che a questo punto Prima di Natale Alla sosta Non aveva mai segnato Così tanto Nel nostro paese Undicesima meraviglia Grifata a modo suo Alla Zlatan Ibrahimovic Turno favorevole al Milan Che vince a Cagliari Aggancia in vetta La Juventus Bloccata sullo 0-0 Dall'Udinese Alla fine però Si è giocato soprattutto A centrocampo E a gioco lungo Le due squadre Si sono annullate Riscatta suon di gol Per il Napoli Che ne fa 6 al Genoa Camilo Zuniga Al 35esimo minuto E sono 6 Bocciato Malesani Al suo posto Pasquale Marino 4 reti per l'Inter E per l'Atalanta Con il piccolo Marilungo Che realizza una doppietta Colpo grosso della Roma Che sbanca Bologna Pareggi ricchi di reti Innovarà Palermo E Parma Catania Un pareggio Che sicuramente Soddisfa il Catania Per il Parma Ci sarà da lavorare Soprattutto per la tenuta Di tutti i 90 minuti Il 7 gennaio 2012 Riprende la corsa a Scudetto La Juventus Emette la freccia E sorpassa il Milan Una vittoria E il pari con il Cagliari Bastano agli uomini di Conte Per staccare i rossoneri Sconfitti nel derby Ride la Milano Nerazzurra È Diego Milito Il match winner Della straccittadina A conferma Del ritrovato Buono stato di salute Dopo il 5 a 0 al Parma Che emozione è stata E cosa significa per l'Inter Buonasera Innanzitutto Sì sicuramente È un'emozione unica Lincere un derby È sempre qualcosa di speciale Anche a livello personale Poter segnare un derby È sempre bellissimo Però credo che La cosa più importante È la vittoria Come l'abbiamo fatto L'abbiamo detto in settimana Che Avevamo il sogno Di lasciare tutto in campo Il cuore Ha vinto l'Inter L'Inter rilanciata La grande Per la vetta Della classifica Un derby Molto discusso Nei giorni a venire Allora andiamo a sentire Cosa avevano detto I nostri opinionisti La settimana scorsa Eh sì sì Sentiamo Ma no Eh ma sì Sentiamo Ma no ma fa bene Fa bene Vuole prendersi dei vinciti Ma fa bene Ma fai pure Fai pure Allora Sentiamo Questo derby Ma proprio flash Fulvio Derby Derby Chi vince Milano-Inter 2 a 2 Ivan Io vedo fuori Il Milan Marco È 1x2 Ah vabbè Marco Vuol fare Per il giro Allora E allora Gene Milan 3 a 1 E il nostro ospite Dario Canovi Io credo invece Che questa volta L'Inter Farà una sorpresa L'Udinese rimane in scia Anche se Il 3 a 2 Subito dal Genoa Rimasto in 10 Nell'ultimo quarto d'ora Fa male Adrian Mutu Taglia il traguardo Delle 100 reti Contro il Novara Per il rosso-blu Niccolò Cheruvini Invece Arriva il primo gol In Bologna Catania Si rivede Francesco Totti Su alla doppietta Decisiva Contro il Chievo Scusate il ritardo Lo ha scritto Parafrasando Massimo Troisi Francesco Totti Su una delle sue Proverbiali magliette Chissà da quanto Appostata sotto La sua maglia Numero 10 Giovinco Mette il suo sigillo Sul 3 a 1 Di Parma Siena È la partita Del debutto Sulla panchina emiliana Di mister Donadoni Che ha sostituito Colomba Dopo la manita Dell'Inter Close Non perde il feeling Con il gol Così come di Michele Suo è il rigore Che decide la trasferta Di Firenze Manca una giornata Al termine del girone D'andata Tra il 21 E il 22 gennaio Si chiude la prima parte Della stagione Due le partite di cartello Atalanta Juventus E Novara Milan In palio Il titolo di campione D'inverno Da seguire anche Udinese Catania E Inter Lazio Tutto il calcio Minuto per minuto Gentili ascoltatori Buon pomeriggio Dagli studi di Saxa Rubra Di Radio 1 Rai Con le partite Della diciannovesima giornata Di campionato Si conclude oggi Il girone di andata Della Serie A Anche se Sono stati Gli anticipi di ieri Ad offrire i titoli Di prima pagina Con la Juventus Che vicendo a Bergamo Per 2 a 0 Sull'Atalanta Ha conquistato il platonico Ma pur sempre Ambito Riconoscimento Di campioni dell'inverno E Francesco Totti Che contribuendo Con una doppietta All' successo Della Roma Sulla Cesena Per 5 a 1 Ha raggiunto Quota 211 gol Con la stessa maglia E superando così Di una rete Il vecchio record Di Nortal Nel Mina Nel terzo anticipo Quello dell'orapasto Domenicale Pareggio per 0 a 0 Fra Bologna E Parva La Juventus Campione d'inverno È un grande classico Nel romanzo Del calcio italiano E al tempo stesso Una novità assoluta Nella Serie A Del dopo calciopoli 0 Siena Siena 0 Napoli 0 Linea Cagliari Cagliari Fiorentina Sono ancora Sullo 0 a 0 Palermo A Palermo Il partito del primo tempo Palermo 3 Genoa 1 Lecce E qui a Lecce Le squadre Stanno rientrando in campo Il risultato del primo tempo Lecce 1 Lecce 1 Chievo 2 Studio Comincia la seconda parte Di tutto il calcio Minuto per minuto Ritorniamo a Novara Per Novara Milan Sempre 0 a 0 Tra Novara e Milan Ambrosini dal limite Dell'area di rigore Mette per Ibrahimovic Aria Tiro Rete Stop con il petto E tiro con il destro Ravvicinato al limite Dell'area di porta E il Milan Si porta in vantaggio Calcio di rigore Assegnato al Genoa Per un fallo di mano In area di Balsaretti A dopo Grandissima parata di Agazzi Su un bellissimo tiro Dalla sinistra Da parte dell'ex di turno Vale a dire di Lazzari Adesso la Fiorentina Che cerca di portarsi in avanti Scusa Rincorsa di Palacio Il tiro e il gol La rete del Genoa Siena in vantaggio Cala io Alla ventunesimo minuto Siena 1 Napoli 0 Interviene Novara Per segnalare il raddoppio del Milan Esattamente al ventottesimo Con Robinho Ma ci sono vehementi proteste Da parte del Novara Perché Nocerino Che ha suggerito poi La palla per il compagno Aveva in realtà Forse controllate Pallone in area di rigore Con la mano A Palermo siamo Al ventottesimo E trenta secondi Donati Preferisce sfidarla A Migliaccio Che tende un tentativo Di passaggio per Micoli La palla ancora a Micoli 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 Tiro Gol La rete di Micoli E realizza il 4 a 2 Lecce 29 minuti E 40 secondi Lecce 1 Chievo 2 studio Vara Bella reazione Interrompo da Palermo Scusa Cucchi Il quinto gol del Palermo Colpo di testa Vincente di Migliaccio Palermo 5 Genoa 2 E Napoli pareggia Con Pandev Di testa 1 a 1 Tra Siena e Napoli L'uscita a porta vuota Da parte di Uicani Che scopre in realtà La sua porta E consente ad Ibrahimovic Di infilare Alle sue spalle E il Milan Proprio in chiusura Porta a 3 Le sue reti Terrompo ancora da Palermo C'è il terzo gol Del Genoa Realizzato da Jankovic Sotto rete Dunque Palermo 5 Genoa 3 Il pareggio Del Lecce Con Di Michele Che è andato a deviare In porta Un cross Che è arrivato Dalla destra Di Muriel Nulla da fare per Sorrentino Lecce 2 Chiamo 2 Sì c'è un calcio di rigore In favore del Catania Siamo ormai al 48esimo minuto e mezzo Tutto è pronto Fischia Ostinelli Parte la conclusione di Lodi Che spiazza nettamente Il portiere Andanovic Interviene Siena Per dare la finale Siena e Napoli 1 a 1 Novara Si conclude proprio in questo istante Il confronto di Novara Si conclude con la vittoria del Milan Per 3 a 0 E si è conclusa anche Al Renzo Barbera Palermo 5 Genoa 3 Inter Lazio Il posticipo di questa sera Delle ore 20 e 45 A tutti coloro che ci hanno seguito Grazie per l'attenzione 29esimo minuto Le Desma Osservate il movimento di Rocchi E il diagonale È perfetto Da attaccante Di grande Razza Zanetti Il tocco in direzione di Milito Quindi lo scambio con Alvarez E prende il tempo a tutti L'argentino Ed è il pareggio dell'Inter 43esimo minuto Ancora lui Ancora Milito Il quarto gol consecutivo in campionato Poi Matusalem per Hernanes Cambia Reia Obi e Sneijder Per Kivu e Alvarez Cambia l'Inter Inevitabile Dopo il primo tempo 18esimo minuto Il rilancio di Lucio A vuoto Milito Pazzini Posizione come vedremo Molto dubbia la sua Ma il panonetto riesce Ed è il gol del 2 a 1 per l'Inter E la settima vittoria consecutiva in campionato Possiamo dire comunque Bella Lazio Scavalcata In classifica dei Neroazzurri Anche se nelle ultime 5 giornate Il bottino 5 punti Non è affatto esaltante Juventus è campione d'inverno Con 41 punti E nessuna sconfitta Unica formazione imbattuta In tutto il campionato Antonio Conte Ha dato una precisa identità Alla sua squadra Sia a livello mentale Che tattico Il 3-5-2 Ormai lo schema base Pirlo è il sontuoso regista Marchiso e Vidal I guastatori capaci di incidere In maniera decisiva Sotto rete Riprende la corsa Scudetto La finestra di mercato di gennaio Porta a qualche interessante Rimescolamento delle carte Gilardino Chiuso alla Fiorentina Va al Gemma Borriello trova spazio Alla Juventus Montari si trasferisce Dall'Inter al Milan Candreva va alla Lazio L'ex campione del mondo Iaquinta Cerca un rilancio nel Cesena Nell'ultimo fine settimana di gennaio Prende le vie Il girone di ritorno Il maltempo È il vero protagonista Del campionato A Torino È previsto addirittura Un meno sedici Giocare sempre e comunque Quindi non è possibile Se ne è accorto anche Adriano Galliani Che pensa già a domenica prossima Il dirigente rossonero Ha chiesto di rinviare La sfida con Napoli Prevista in posticito Ne risente la classifica Che vede ai piani alti Il sorpasso del Milan Sulla Juventus I rossoneri hanno una sola battuta D'arresto Contro la Lazio Alla ventunesima giornata Per il resto Gli uomini di Allegri Spingono decisi Anche con i nuovi innesti Maxi Lopez E Muntari Vanno subito a segno Alla vigilia Dello scontro diretto Con la Juventus In programma Il 25 febbraio Il Milan Un punto di vantaggio Sui bianconeri Il Milan Quindi risorpassa La Juventus Sabato 90 minuti Ad alta tensione Giovedì si saprà Se Ibrahimovic Sarà in campo O in tribuna La Juventus È penalizzata Da molti rinvii Delle sue gare Di suo Ci mette Il deludente 0-0 casalingo Con il Siena E quello esterno A Parma Nel recupero Della ventunesima giornata Il 3-1 Al Catania In rimonta Con il primo gol Di Pirlo Riaccende L'entusiasmo In casa bianconera Per un'annata Comunque superiore Alle aspettative Lazio-Udinese Continuano ad occupare La terza posizione La squadra di Edierei Abatte il Chievo Prima di essere travolta Dal Palermo Per 5-1 Un incidente di percorso Sperano in casa Lazio L'Udinese In fase calante Mette insieme Qualche sconfitta Di troppo E uno scialbo pareggio Casalingo Con il Cagliari La Roma È la quinta forza Del campionato Fiora all'occhiello Della formazione Di Luis Enrique Il 4-0 all'Inter Con doppietta Del giovane Borini La prima Con la maglia Della Roma Che al minuto 3 Del secondo tempo Chiude eventualmente La partita Igor Budan A riete del Palermo Arriva a quota 40 Reti Con la doppietta All'Enovara La ventesima giornata Mentre Pellissier Bandiera del Chievo Taglia il traguardo Di 100 gol Il 2 febbraio 2012 Nel Napoli Sempre più decisivo Il contributo Sottorete di Cavani Jovetic È l'uomo in più Della Fiorentina È bastata la prudezza Di Jovetic Dopo neanche 4 minuti Di gioco A riportare un clima Di festa All'interno del Franchi Marco Di Vaio È l'intramontabile Golador del Bologna Mentre l'ultimo arrivato Piniglia Si presenta I suoi tifosi Del Cagliari Segnando subito Sullo sfondo Della classifica Il Novara All'intesima giornata Esonera Tesser E si appida L'esperienza di Mondonico Il Cesena Torna ad occupare L'ultima posizione E gioca ancora una volta La carta del cambio tecnico Via Rigoni Dentro Beretta E si arriva così All'attanto atteso Scontro diretto Tra prima e seconda Anticipo serale Della venticinquesima giornata Nel pomeriggio Un immenso palassio Ha recuperato Il doppio vantaggio Del Parma Regalando al suo geno Un punto insperato L'argentino Non si ferma più 14 reti in questa stagione E il faro del grifone Indisponibile Ibraimovic Allegri si affida Alla coppia Pato Robigno Conte conferma Il 3-5-2 Con Estigarribia Esterno sinistro Di centrocampo E il Milan A portarsi in avanti Con Nocerino Al quattordicesimo Il gol di Nocerino La certificazione Della superiorità Rossonera Dieci minuti più tardi Un colpo di testa Di Montari Viene respinto Da Buffon Quando il pallone Ha nettamente Superato la linea di porta E gol Lo vedono tutti Tranne arbitro e assistente La rete non viene assegnata Il clima si fa incandescente Nel secondo tempo Conte butta dentro Matri Che pochi minuti dopo Acciuffa il pareggio Con una girata Al volo di destro Finisce 1-1 C'eravamo tanto amati Potrebbe essere questo Il titolo del film Dedicato a Milan-Juventus Rapporti Legami Amicizie Strategie Tutto spazzato via In 90 minuti Da amici a rivali Questione di feeling Questione di un gol Visto da tutti Per meglio dire Quasi da tutti La società bianconera Fa presente Invece che All'assistente Romagnoli Oltre al gol di Montari E' sfuggita pure La posizione regolare Di Matri Prima del vero pareggio Insomma Anche la gara Degli errori Arbitrali E' terminata in parità Uno a uno Nessun complotto Nessuno scandalo Non la pensa così Galliani Furibondo Durante l'intervallo Protagonista con Conte Di un feroce Scontro verbale Negli spogliatoi Insulti Ed accuse al vetriolo Chissà con quali conseguenze Non la pensa così Berlusconi Che questa volta Ha preferito Non complimentarsi Con la signora di Torino No Questa sera Mi sono astenuto Il Milan mantiene il comando Anche se la Juve deve ancora recuperare una partita Ma le polemiche Si fanno velenose 18 febbraio Allegri dopo Juventus-Catania Mi sarei divertito Se avessero annullato il gol a Chiellini 20 febbraio Marotta risponde al Milan Non guardiamo in casa d'altri 21 febbraio Agnelli Attacca a Bete Su Conte Parola inopportune 23 febbraio Respinto il ricorso Per la squalifica di Ibrahimovic 25 febbraio Milan-Juventus Annullato il gol a Montari Galliani Lamentarsi Paga Milan-Juventus Annullato il gol a Matri Conte Qui E' la mafia Poteva capitare a qualsiasi altra squadra Premessa 5 giocatori della Juventus Che alzano il braccio Per dire La palla non è entrata Allora Il giorno in cui Uno di questi Va dall'arbitro E dice Arbitro La palla è entrata Il calcio secondo me Non succederà mai Non succederà mai Ma su questo discorso Sono abbastanza chiare Vai nello spogliatoio Ti prendono i tuoi compagni Ti mettono sotto la doccia Ti fanno accogliere i saponi E tutto quello che segue Su questo è abbastanza chiaro Anche quello che ha detto Scusa Quello che ha detto A fine partita Buffonieri Che ha detto Io non l'ho vista dentro Ma anche se l'avessi vista Non l'avrei detto E sono dichiarazioni che hanno fatto Oltretutto ridiscutere La giornata si completa Con la rinascita dell'Udinese Che torna da Bologna Con i tre punti Di Natale sblocca il risultato E inaugura la domenica Dei grandi bomber Close è il match winner Di Lazio Fiorentina Bergessio timbra ancora Per il successo Del Catania sul Novara Bogdani fa sorridere il Siena Lavezzi regala i tre punti Al Napoli contro l'Inter Meglio di tutti Fa Denis Che realizza una tripletta Nel 4-1 della sua Atalanta Contro la Roma Di un Luis Enrique Sempre più Nell'occhio del ciclone Assente Totti per squalifica La Roma scende in campo A Bergamo Clamorosamente Anche senza Daniele De Rossi Neppure in panchina Io so che dovrebbe essere arrivato In ritardo alla riunione tecnica E quindi è stato preso Un provvedimento disciplinare Però mi dica Se non è così Lo dica lei Misti Siamo a marzo Mese da sempre decisivo Per le sorti del campionato La giornata è la numero 26 Sulla carta Il turno pare favorevole Ai bianconeri Che ricevono il Chievo Allo Juventus Stadium Il Milan vola a Palermo Trasferta insidiosa Ad arricchire il calendario C'è il derby romano Con i giallorossi In cerca di riscatto E la Lazio In piena corsa Champions Tutto il calcio Minuto per minuto Gentili ascoltatori Buon pomeriggio Dalli studi di Saxa Rubra Di Radio 1 Rai Nella 26esima giornata Del campionato di Serie A Settima del girone di ritorno Decisivi gli anticipi Del sabato Per la parte alta Della classifica Il Milan ha vinto A Palermo Per 4-0 Ed ha consolidato La sua posizione di leader Portando a tre I punti di vantaggio Sulla Juve Fermata in casa Sul pareggio 1-1 Dalle Chievo I bianconeri Comunque Devono ancora Recuperare Una partita E lo faranno Mercoledì prossimo In trasferta Contro Il Bologna Nel terzo anticipo Quello Ora pasti Della domenica Il Napoli Ha appena vinto A Parma Con il punteggio Di 2-1 Stiamo facendo il massimo Quindi Io sono molto sereno Da questo punto di vista E vado a casa E dormo Non dormo tanto Perché quando vinco Non dormo tanto Però sono sereno Perché ripeto La macchina Io e il calciatore Si stanno spingendo A manetta Se poi a qualcuno Storce il naso Si è montata la testa E' meglio Che se la smonti Abbiamo dunque I finali Di tutti i primi tempi Per quanto riguarda Le partite Della serie Roma Roma 1 Lazio 1 Udine Udinese 0 Atalanta 0 Firenze Tira 0 Cesena 0 Siena Siena 1 Cagliari 0 Lecce Lecce 0 Genoa 1 Studio Comincia la seconda parte Di tutto il calcio Minuto per minuto Riccardo Cucchi Dunque parità 1 a 1 Dopo un primo tempo Molto intenso Diciamo sul piano emotivo Le squadre sono però Poco lucide E il gioco Poco brillante Al settimo Stechelenburg Esce su Close Che va giù Rigore e rosso Per i portieri romanista Entra Lobot Esce la mela Ed Hernanes Realizza per la Lazio L'1 a 0 Al decimo minuto del gioco Al sedicesimo Il pari Con la Roma Che avanza E Joan Che cross E colpisce la traversa Entra Borini E calci Abbiava lontana di testa Ma oltre la linea De Bravo Copelli Ad individuare subito Ed assegnare la rete In favore della formazione romanista Linea d'Udine A Udine Sedicesimo E 15 secondi Udinese 0 Atalanta 0 E c'è anche il vantaggio Della Fiorentina Sul Cesena Con il gol di Amaury Il primo In maglia viola Al sedicesimo minuto Fiorentina 1 Cesena 0 A poi la linea E mentre intervenivano i colleghi C'è stata un'entrata In scivolata Sottomisura Da parte di Amaury Che ha colpito in diagonale Spiazzando Il portiere della Roma Lobot Roma 1 Lazio 2 Attenzione Il raddoppio Della Fiorentina Con Nastasic Esattamente Al 29esimo minuto Fiorentina 2 Cesena 0 Grandissimo gol Di Emanuele Carlayo 2 a 0 Per il Siena 36esimo Della ripresa Siena 2 Caglia 0 Linea Lecce Lecce che si prepara A battere una punizione Dalla 3 quarti E Brivio La battuta Sotto l'incrocio Dei pali Strepitoso Il raddoppio Del Lecce Un grandissimo gol 3 a 0 Siena Del Grosso 38 minuti L'apertura di Borini Marchigno Il suo cross in area di rigore Colpo di testa E palla che finisce Di pochissimo a lato Roma vicina Alla pareggio In questa occasione Il pareggio del Genoa Sugli sviluppi Di un calcio D'angolo Un gran colpo Di testa In mischia Se non andiamo Errati di Sculli Quarantesimo Lecce 2 Genoa 2 Finale da Udine Udinese 0 Atalanta 0 A terra linea E c'è il finale Anche da Siena Siena batte Cagliari 3 a 0 C'è il finale Del Franchi La Fiorentina Ha battuto Il Cesena Per due reti A 0 Roma D'accordo Raffa In questo momento Vergonzi Dichiara Concluso il derby Derby che la Lazio Si aggiudica Battendo la Roma Con il punteggio Di 2 a 1 Fra poco Alle 18.30 Comincerà Il primo Nei due posticipi Di questa giornata Bologna Novara E poi alle 20.45 Per concludere La giornata L'ultimo posticipo Quello fra Inter E Catania Samuel tiene in gioco Gomez Su Nagatomo Disorientato 38esimo Al Niron Dentro per Barrientos C'è un tocco di Nagatomo E arriva la palla Sui piedi di Izco Ed è il 2 a 0 È il momento dell'Inter Forlan 25esimo minuto Cerca di ubriacare La difesa Del Catania Con questo dribbling Ha un po' di fortuna Perché è quasi Un autogol Di Carisso Forlan Milito In area Il destro In diagonale Dell'Agentino Ed è il gol Del 2 a 2 Alla 34esimo Minuto Ci vuole una percussione Improvvisa di Perez Per aprire una breccia Due pali Poi alla fine La ribattuta decisiva Di Robert Acquafresca Io credo Che per un allenatore Non ci possa essere Situazione migliore Del gol che abbiamo segnato È stata una palla Rubata alta Da un nostro centrocampista Che ha fatto un'azione Individuale E due attaccanti Che hanno fatto di tutto Per buttare la palla dentro Che non voleva entrare Quindi questo Testimonia la volontà Lo spirito La consapevolezza Dell'importanza di una gara E testimonia che i miei giocatori L'hanno interpretato Nel mondo migliore Il Milan spinge ancora più forte Sui pedali Con il tandem Nocerino-Ibra Liquida e Lecce La Juventus Accusa il colpo E non sa più vincere Dopo l'1-1 con il Chievo Seguono i pareggi Con il Bologna Nel recupero Della ventitresima giornata E con il Genoa Il distacco adesso È di quattro punti Conte in emergenza Soprattutto in difesa Dove viene schierato Arturo Vidal Il momento non è dei migliori Ma questa Juventus Pare possedere doti morali Fuori dal comune Buffon è l'uomo guida Del Piero si conferma Professionista esemplare Poi c'è Andrea Pirlo La vera rivelazione Della stagione bianconera Contro il Genoa L'11 marzo 2012 Raggiunge le 400 presenze in A Un fuori classe assoluto Andrea Pirlo Il Mozart del calcio Un direttore d'orchestra Raffinato e virtuoso Il vero colpo estivo Della Juventus Il capolavoro del duo Marotta Paratici Parametro Zero Classe 1979 Il più giovane Debuttante in assoluto Con la maglia delle rondinelle Gioca a centrocampo È un talento puro Non ha ancora l'età Per la patente Inevitabile Il rimando a Gianni Rivera Ma stavolta Il paragone ci sta tutto Destro che dipinge Testa che pensa Lucida visione di gioco E assoluta percezione Dell'esattezza Dei tempi di giocata Lo prende l'Inter Ancora ragazzo Forse un po' acerbo I nerazzurri Non hanno tempo La svolta per Andrea Nel frattempo numero 10 Delle varie rappresentative Azzurre È il ritorno a Brescia Nel 2001 Carlo Mazzone E Roberto Baggio I due assi Su cui poggia L'esplosione Del giovane campione Bresciano Mazzone Gli cuce addosso La posizione in campo Nasce lì Il Pirlo Regista La vicinanza Con Baggio È una fortuna Lo scruta Lo osserva Gli carpisce E i segreti Ci avresti scommesso Su questa coppia Per Lovaggio Ma sì Anche perché Non vedo problemi Due giocatori Che sanno giocare a calcio Quindi basta Adattarsi un po' Le situazioni Si può giocare insieme La stagione Tra le mura di casa È quella decisiva Per il salto Di qualità Che si materializza Con il passaggio Al Milan Nel 2002 In Rosso Nero Vince tutto Stavolta Trequartista Per esigenze D'organico Con Ancelotti Il ritorno Alla posizione Di regista Nel frattempo Debutta Con la nazionale Maggiore Naturale sbocco Di una carriera Da sempre Colorata È il numero 21 Nella notte di Berlino Primo rigorista Della lotteria finale Parte Andrea Pirlo Ed è golla Bravissimo Andrea ha fatto Il suo dovere Continua a giocare E a vincere In Rosso Nero Fino a quando Qualcosa si rompe Durante la stagione 2010-2011 Finisce l'amore Tanti e nessuno I motivi Una bellissima avventura Durata 10 anni Andrea Pirlo Ha salutato il Milan Una decisione concertata Ma figlia Delle idee tattiche Di Massimiliano Allegri Che non trova spazio Nel Milan del futuro Per un regista Davanti alla difesa Un ruolo questo Inventato In accordo Con Ancelotti Nel 2002 Quando era il Milan Già da una stagione Un po' soffocato Dall'elegante Rui Costa Definito da Parreira Come uno zico Davanti alla difesa Si consacra In pochi anni Tra i migliori Centrocampisti In assoluto Un regista basso La Juventus È alla finestra E ha l'idea Meravigliosa Di offrirgli un ingaggio Un contratto vero Pluriennale Le visite mediche La firma E finalmente La presentazione Per Andrea Pirlo È finalmente Ufficialmente Cominciata L'avventura L'avventura in bianconero Ho scelto la Juve Perché la Juve È la squadra Insieme all'Inter Il Milan Più importante In Italia E anche In Europa E nel mondo È una squadra Che vuole tornare A vincere È parecchi anni Che non vince E quindi Per me Questa scelta Di venire qua È stata dettata Anche da questo Sorridono tutti Forse presagi Di un futuro prossimo Ricco di soddisfazione È andata Ancora meglio Del previsto Il presente È già ricchissimo Di gioie E di vittorie E non sarà Che la prima Delle stagioni Vincenti Della Juventus Andrea Ha dimostrato Tutto il suo Grande talento E il suo valore Quando giocavamo Insieme Tutto dipendeva Da lui Ha sempre avuto Il grande merito Di vedere In anticipo Quello che poteva Succedere All'interno Dell'azione La sua visione Di gioco Quello che sa fare Quello che sa Costruire Fanno di lui Un fuoriclasse Andrea Ha qualcosa Che non si vede Spesso in giro La ventisettesima Giornata Non è solo Il Juve Milan La parte del leone La fa il Napoli Che supera il Cagliari Per 6 a 3 Aggancia l'Udinese E si porta A ridosso Della Lazio Sconfitte In casa Dal Bologna La lotta Per il terzo posto Champions Si fa ancora Più interessante C'è anche Il risveglio Della Roma Che vince a Palermo E per il Rosanero È la seconda Sconfitta Consecutiva In casa Il Novara Il Novara Che ritrova Di Abate Di Abate Antonini I rossoneri Tengono un buon passo Due vittorie Con Parma E Roma In rimonta Prima del pari A Catania Contro una Delle migliori Formazioni Del campionato Il piccolo Barcellona Di Montella Tutto pressing E velocità E passaggi corti Quattro vittorie E quattro pareggi Nelle ultime Otto gare La Juventus È inaguato Antonio Conte Sa toccare Le corde giuste È stato per anni Il capitano juventino Il popolo Bianconero Sente che la molla Sta per scattare Il primo sussulto A Firenze Il 17 marzo Partita tradizionalmente Difficile Ma la Juve Spazza via tutto Con un clamoroso 5 a 0 Viola in crisi È un passo Dalla zona retrocessione Bianconeri Che decollano Lo Juventus Stadium Esplode La sera del 25 marzo È il primo derby D'Italia Nel nuovo impianto Torinese La Juve Riceve l'Inter Partita bloccata Al 52esimo Conte chiede a Del Piero Di dare la svolta Alla gara Cambia modulo Il tecnico Della Juventus Teme Questi interessi Attrezza Per colpirla Dopo 5 minuti Casares Batte Julio Cesar Lo stadio È una bolgia Nulla a che vedere Con quel che succede Al minuto 71 C'è lo scatto Di Del Piero Nelle linee Nelle azzurre Supera tutti Velocità Ed è il gol Del 2 a 0 La grande gioia Di Alessandro Del Piero Il suo primo gol In questo campionato Il gol numero 186 In Serie A Il nono Segnato All'Inter La Juve Adesso ci crede Ancora di più Ma non lo dice Nemmeno quando Travolge il Napoli Di Mazzardi Con un perentorio 3 a 0 E si porta A due punti Dal Milan capolista Io ho avuto Io ho avuto la fortuna Di incontrare Un gruppo Che tra vecchi e nuovi Avevano voglia Comunque di scrivere Qualcosa di importante Adesso non abbiamo Scritto niente Però Perché si scrive Solamente quando si vince La partita di oggi La vittoria di oggi Contro un grande Napoli Ci ha fatto mettere Una serie ipoteca Sul secondo posto Il duello di testa È avvincente Il campionato È apertissimo Anche la corsa Per la Champions Tiene accesa L'attenzione Con Lazio Udinese Napoli In lotta Per un posto La Lazio mantiene Il terzo posto Ma sbanda Paurosamente Due sconfitte E una sola vittoria Per la squadra di Reia Punti pesanti Persi per strada Potrebbero essere Quelli decisivi Eravamo carichi Prima della partita Avevamo detto Che bisognava fare Non bene Ma bisognava fare Benissimo Soprattutto in fase iniziale Di essere aggressivi Poi abbiamo commesso Questi erosi Queste sono cose Che non bisogna Assolutamente commettere Anche l'Udinese Viaggia a ritmi ridotti Si fa rimontare Il doppio vantaggio Dal Napoli Pareggia nel finale A Palermo E perde a Siena Dove Mattia Destro Si conferma Una delle migliori Rivelazioni della stagione Per l'attaccante Dell'Under 21 Settimo gol stagionale E un'altra domenica Da protagonista Siamo riusciti Di subito a trovare Questo gol Ed è importante I tre punti Per il palo Sono stato un po' sfortunato Perché sinceramente L'avevo vista dentro Poi è andato a sbattere Sul palo Il gol è stato bravo Sia Ciccio Che Alessandro A mettermi il pallone Quindi va benissimo La Roma spinta da Osvaldo A un guizzo interessante E si riporta A ridosso Di Udinese e Napoli Il Catania regge Il Cagliari Ha azzeccato L'acquisto di gennaio Con Maurizio Piniglia Il Palermo Tiene la sua prima vittoria Esterna contro il Bologna Mentre il Chievo Affossa ancora di più Una Fiorentina In piena zona retrocessione Sicuramente Mi aspettavo meno difficoltà Sicuramente Non mi aspettavo Di trovarmi In questa situazione In classifica La maggioranza Dei tifosi viola Alla fine Ha preferito Abbandonare gli spalti Senza neanche contestare Un segnale Considerato pericoloso Dallo stesso Rossi Da queste parti Domina ormai La rassegnazione Poi c'è l'Inter Il 2-0 Dello Juventus Stadium Ha effetti devastanti In Casanerazzurra Massimo Moratti Decide per la seconda Svolta stagionale Via Claudio Ranieri E dentro il giovane Andrea Stramaccioni Allenatore della primavera Con cui ha conquistato La Next Generation Cup È una mossa Che lascia qualche dubbio Il nuovo allenatore 36 anni È al debutto assoluto Moratti ha ragionato Da uomo di spettacolo Cioè voleva dare un senso Alle ultime nove partite Ranieri non riusciva più A uscire da questo tunnel E ha tentato La carta del giovane La prima uscita Sembra dare ragione a Moratti L'Inter batte il Genoa Per 5-4 Dopo un'altalina di emozioni Tutto da seguire Il finale di stagione D'Enerazzurri I 5 gol subiti Costano il posto A Pasquale Marino Preziosi lo esonera E richiama Malesani Giornata numero 31 Vigilia di Pasqua Tutte le gare in calendario Sabato 7 aprile Milan e Juve Sono separate da due punti Giocano a orari diversi Alle 15 I rossoneri Spidono la Fiorentina in casa Con Cassano Che torna a disposizione Alle 18.30 I bianconeri Se la vedranno Con il Palermo Al Barbera L'uovo di Pasqua Regala una sorpresa amara Alla squadra di Allegri Stanca nelle gambe Svuotata nella testa La Fiorentina colpisce All'alba E al tramonto della ripresa Ribaltando il risultato E forse Il pronostico tricolore E l'ex bianconero Amauri A condannare i rossoneri A un minuto dalla fine La Juventus Ha un motivo in più Per vincere I tre punti Significano sorpasso Fate il traversone di Pirlo Attenzione Il pallone in rete Ha segnato la Juventus È stato Bonucci 2-0 Bonucci e Quagliarella Nel secondo tempo La Juve mette la freccia E distanzia il Milan La Lazio consolida Il suo terzo posto Battendo per 3-1 Il Napoli Dura sconfitta Per gli uomini di Mazzarri Che a sette giornate Dalla fine Vedono sfumare Il traguardo Champions Anche perché L'Udinese è sempre lì Trascinata stavolta Dal centrocampista Asamoah Il ganese realizza Un gol per tempo E in entrambi i casi Nei minuti di recupero Io molto contento Ringrazio Dio Anche Mia amore Anche famiglia Io sono contento Per questa doppietta L'Inter fa 2-2 Contro il Cagliari Che gioca sul neutro Di Trieste Per l'indisponibilità Del Sant'Elia Il Lecce Travolge la Roma E continua a sperare Nella salvezza Il romanista Cosmi Festeggia la vittoria Promettendo In caso di salvezza Di cantare con Giuliano Sul palco dei Negramaro Io mi propongo Il problema sarà di Giuliano Se avrà il coraggio Di accettarmi Insomma Io ci mancherò Farei di tutto Chi si è di fatto Tirato fuori dalla mischia È il Siena Che va a prendersi Tre punti a Bergamo Di Mattia a Destro Il gol decisivo Quando ormai Ormai la partita Sta per finire Il campionato Adesso entra nel vivo Tra il 10 E l'11 aprile È in programma La 32esima giornata Turno infrasettimanale Apre il Milan Che vince a Verona Contro il Chievo Basta un gol di Montari Nei primi minuti Per riprendersi La testa della classifica Un siluro Che affonda Le bellità Di un Chievo A tutto ritmo E velocità Poi cuore Sofferenza Grinta Umiltà La classe operaia Di Allegri Vole in testa La classifica Per una notte Il primato Dura giusto 24 ore Perché la Juventus Risponde a tono Battendolo a Lazio E si riprende la vetta Eroe della serata Allo stadium È Alessandro Del Piero Entra al 72esimo E 10 minuti dopo Realizza il gol partita L'esultanza Di Del Piero Settecentesima partita Ufficiale Con la maglia Della Juventus 187esimo gol In Serie A Juventus 68 Milan 67 Nel mezzo Succede di tutto L'Udinese Non approfitta Del passo falso Della Lazio Esce battuta Da una pazza Roma Che segna i gol Decisimi Nei minuti finali Fa ancora peggio Il Napoli Sconfitto in casa Dall'Atalanta Di Michele Regala tre punti Pesantissimi Al suo Lecce Milito Tiene a gala L'Inter Contro il Siena Diamanti Si fa sorridere Il Bologna Con la rete Della vittoria Sul Cagliari Poi Il campionato Si ferma Buonasera Abbiamo vissuto Un'ora e mezza Drammatica Con la speranza Che Pier Mario Morosini Potesse farcela E invece Questo ragazzo Che giocava Nell'Ivorno Si è arreso Dopo Mezz'ora Della partita Contro il Pescara Morosini Morosini aveva 25 anni Ed è morto A causa di un attacco cardiaco Era un ragazzo sfortunato Aveva perso già Entrambi i genitori Da parte di tutta Rai Sport Da parte del gruppo di lavoro Di 90esimo minuto Serie B Un abbraccio Forte Ai familiari Lo sciocco è enorme Quando sentite parlare Di questo ragazzo Da tutti quanti C'è Un'animità Di commenti No? E vi assicuro Che non sono Le solite frasi Che si dicono Quando moro Un ragazzo La 33esima giornata Viene rinviata Alle 16.45 Il triplice fischio Non finisce una partita Termina una vita Si riparte Con la 34esima 21 22 aprile 2012 La Juve allunga Schiaccia la Roma Sotto 4 ripi Arturo Vidale È il miglior investimento Dell'anno In casa bianconera E i gol del Cileno In questo campionato Salgono naturalmente A quota 6 Doppietta per il Cileno Che spiana la strada Per le successive reti Di Pirlo e Marchisio Il Milan pareggia Faticosamente con il Bologna E scivola a meno 3 Di Ibrahimovic Il gol del pareggio Al novantesimo Dopo il pareggio Ha avuto addirittura Più occasioni Che in tutta la partita Il Milan Abbiamo iniziato discretamente bene Abbiamo avuto 2-3 situazioni favorevoli Una clamorosa Con Ibra Dopo abbiamo commesso Quest'errore Abbiamo preso gol E lì ci siamo un po' disuniti Il secondo tempo Abbiamo fatto meglio In 10 abbiamo cercato Anche la vittoria Non ci siamo riusciti Lazio-Udinese Non pungono I bianco-celesti Vedono sfumare La vittoria nel recupero E' sul tanza spettacolare di Cosmi Che ha rigenerato una squadra Che sembrava destinata Alla retrocessione In Napoli intanto Consoli del quinto posto L'Inter pareggia a Firenze Contri Viola Che sono ancora in pericolo Bene Catani e Parma Con quello al Cagliari sono 12 I gol in campionato Del numero 10 parmenze Un record personale Che vale la quasi salvezza Dei Ducali Benissimo il Siena 4-1 a Marassi Contro il rosso-blu di Malesani Malissimo il Genoa Non tanto per la prestazione Quanto per quel che va in scena Al nono del secondo tempo Nuvole nere a Genova Nessuno alla vigilia della stagione Avrebbe mai pensato Che i rosso-blu potessero rischiare La retrocessione Ambiente carico I tifosi non riescono Ad accettare la nuova realtà La vigilia dello scontro diretto Con il Siena È tesa e nervosa Il Genoa cerca la vittoria Addirittura da 11 giornate Quart'ultimo in classifica Con la peggiore difesa Del campionato Tre pareggi e due sconfitte Nelle ultime 5 partite In campo il Siena È una furia Il primo tempo Si chiude sul 3-0 Per i bianconeri Poi dopo il quarto gol Nei primi minuti del secondo tempo Va in scena la follia Il Genoa sta perdendo Per 4-0 contro il Siena E gli Ultral Lanciano un petardo in campo Poi decidono di portarsi Verso quella parte della tribuna Che dà sul tunnel Che portano gli spogliatori La partita viene sospesa Gridano Si agitano Incominciano a dettar leggi Con quella violenza Purtroppo ben conosciuta Dal calcio italiano Chiedono E vengono addirittura Accontentati Di ritirare le maglie Perché secondo loro Quei calciatori Sono indegni Sono in parte accontentati Molti le riconsignano Nelle mani del capitano Rossi Altri come Mesto Non lo fanno Tra sconforto Rabbia E pianto Forze dell'ordine in campo Ultra avvolto scoperto Sul tetto del tunnel Scene davvero surreale Mentre Sculli L'attaccante del Genoa Cerca il dialogo Nella tentativo Di far riprendere la partita Alla fine ci riesce Si riconsegnano le maglie Frey Il portiere del Genoa È indignato Il presidente Abete Della fede del calcio Quella gente Dice Va allontanata dagli stadi Tutto ciò È inaccettabile Il calcio Imprigionato Ma fino a quando? Dal lato sportivo Una brutta pagina Per il Genoa Che esonera Malesani E lo sostituisce Con De Canio Per evitare un rimpallo Di nuove polemiche De Canio Che nel pomeriggio Ha già diretto Il suo primo allenamento Rigorosamente a porte chiuse Non sarà presentato Ed è probabile Che fino a fine stagione L'unico autorizzato A parlare Sarà il presidente Preziosi E c'è sempre Quella Questa Sensazione Di prevaricazione Di alcuni Delinquenti Nessuno ha consigliato Di togliersi Le magliette Assolutamente Questo è un fatto Che sia ben chiaro E se Questa maglietta Fossera stato Così Il segno Del proseguimento E non un segno Dell'umiliazione Avremmo pure potuto farlo Ma quando è diventato Invece Un segno Di resa Di umiliazione Abbiamo ripreso A giocare Per fortuna A fine campionato Evidentemente Una riflessione Ci vorrà Perché io poi Non sto da nessuna parte A rispetto dei santi Se non sono gradito Su una piazza Mi sembra Che sia giusto Che uno faccia Un passo indietro Se invece Ci sono i presupposti Per continuare Vedremo Per il campionato E per tutto Il calcio italiano È una delle pagine Più vergognose Della sua storia Lei ha parlato Di vergogna Per i fatti di Genova Sì E forse Perché non ho trovato Un termine peggiore Non ho trovato Un termine peggiore Perché ieri abbiamo Arricchito Il nostro Album Già pieno Di foto negative Ieri abbiamo messo un'altra Per cui ho detto E suggerito E suggerirò Che agli attori di ieri Si facciano una bella foto La mettono nella stanza E quando subiranno Un minimo torto Un minimo torto arbitrale O altre cose Si rendano conto Del torto Che hanno fatto Al calcio italiano E allo sport italiano Al di là Della cultura Di questi soggetti Che di sconfitte Non ne vogliono Sentire parlare Perché pretendono Ovviamente Sempre le vittorie Non sanno Che anche nella sconfitta Si trasferiscono dei valori C'è stata La resa Data dalla consegna Delle maglie Che è il fatto Più triste Più grave Della giornata di ieri Il clima di ricatto In cui parte del calcio italiano Vive da tempo Non è solo a Genova E non è solo Per quei fumogeni in campo Il problema È che questi ultra Si sentono padroni Padroni Della maglia Che invece Non appartiene loro Fossi io La maglia Non la darei mai L'ho trovato Un gesto Che non va ripetuto Un gesto Di resa Che non va offerto Per fortuna Riparte il campionato Con lo sprint finale Tra martedì 24 E mercoledì 25 Si recupera La trentatresima giornata Negli anticipi Del martedì L'Atalanta batte il Chievo E a Trieste Il Cagliari Supera il Catania Per 3 a 0 Il clou È il giorno dopo Juve e Milan Giocano in contemporanea Alle 18 Prima ci sono Le vittorie di Fiorentina Napoli e Parma In trasferta Vince anche l'Inter Che batte l'Udinese Al Friuli E stravolge la corsa Per il terzo posto Ore 18 A Cesena Gioca la Juve Il Milan Ospita il Genoa Conte non tocca Il suo 3-5-2 In attacco spazio Per il tandem Vucinic Matri Ma è l'outsider Borriello A regalare al popolo Bianconero i tre punti Mancano poco più Di dieci minuti Alla fine Lui è in campo Da 5 Il Milan Risponde All'ottantasesimo San Siro esplode Quando Boateng Centra il bersaglio Juventus 74 Milan 71 Aprile ancora una giornata In calendario È la numero 35 Non cambia niente In testa Juve e Milan Vincono largo in trasferta Le distanze rimangono le stesse Ma c'è un turno in meno Da giocare Conte non si sbilancia Vuole tenere alta la tensione Vietato mollare A me è piaciuto molto L'atteggiamento L'approccio alla partita Da squadra che sapeva di giocarsi tantissimo Perché per noi c'era un'unica strada Vincere E il fatto di aver fatto gol subito Sicuramente ci ha reso la vita molto più facile Intanto è Bagarra al terzo posto Con le quattro squadre a 55 punti Udinese Lazio Napoli E l'Inter che Stramaccioni sta riportando in alto Il ragazzo Non perde La squadra ha ottenuto qualche risultato Quando l'ha presa L'Inter era molto sotto Ed era molto distante Adesso è nel mucchio selvaggio Come abbiamo intitolato noi Come ha intitolato Maurizio Rosa Però se andiamo a vedere i coefficienti I vari coefficienti E il calendario In effetti l'Inter Insomma dovrebbe compiere Una vera impresa Per arrivare al terzo posto In coda Già retrocesso il Ceseno Dopo la sconfitta con la Juventus È un passo dalla via anche il Novara È lotta serrata tra Lecce e Genoa Con la Fiorentina virtualmente salva Maggio è il mese dei responsi A tre giornate dalla fine La Juve ha tre punti sul Milan Ed è in vantaggio con gli scontri diretti Un eventuale arrivo a pari punti Vedrebbe prevalere i bianconeri Ultimo turno infrasettimanale della stagione Giornata numero 36 In uno degli anticipi Il Napoli batte il Palermo E rafforza il suo terzo posto Gli risponde subito l'Udinese con Fabrini Match winner contro il Cesena Bruta batosta per l'Inter Piegata per 3-1 dal Parma di Giovinco Giovinco in area Ancora Giovinco Giovinco Il campionato è così Pazzo e imprevedibile Capace di sorprendere continuamente A pochi minuti dalla fine Giovinco in area Poi a Torino Gigi Buffon La combina grossa e regala il pareggio a Lecce Errore colossale di Buffon E Bertolacci segna il suo terzo gol in questo campionato Manca una manciata di minuti alla fine Il popolo juventino trema I rossoneri portano a casa la vittoria Adesso sono a un punto L'errore di Buffon ha castigato Una squadra che sembrava avere la partita in pugno Tutto facile appariva per la capolista Perché aveva segnato in apertura Aveva giocato in superità numerica dal nono della ripresa L'avversario non riusciva a rendersi incisivo E invece il calcio ha voluto ricordare una volta di più Che quando non si chiudono le partite Non concretizzando le tante occasioni Si può venire castigati La corsa a scudetto è questa Alla penultima curva tutto è ancora in discussione La trentasettesima giornata è tutta da seguire Il popolo del pallone si chiede come reagirà la Juventus Impegnata a Trieste contro il Cagliari Per il Milan c'è il derby Partita da tripla A seguire Udinese Genoa Bologna Napoli E Atalanta Lazio per la zona Champions In coda c'è Lecce Fiorentina Chiude Novara Cesena Partita tra le due retrocessi in anticipo Tutto il calcio minuto per minuto Gentili ascoltatori da Filippo Corsini In più cordiale buon pomeriggio Penultimo atto per il massimo campionato di calcio Che a soli 180 minuti dal termine Deve ancora mettere i suoi verdetti più importanti Nei due anticipi di ieri Due a due tra Roma e Catania Nell'anticipo delle 12.30 Invece il Parma ha vinto 2-0 In casa del Siena Da segnalare la vittoria della Fiorentina 1-0 a Lecce Che rende ormai quasi impossibile La salvezza dei Salentini Cosmi avrebbe voluto giocare in contemporanea Con il Genoa E anche per dare un giorno in più ai suoi Per recuperare le forze Non sono più sorpreso Da quello che succede nel nostro calcio Siamo dentro un frullatore Che credo che giustifica purtroppo Devo dire anche Una cosa che io ho sempre non contestato Però ho messo in evidenza Anche quelli che sono i compensi economici Voglio dire Perché qui veramente rischiano di farti Morire in campo Abbiamo dunque i finali di tutti i primi tempi Bologna-Napoli Giulio Delfino 1-0 a favore di Bologna Gol di Diamanti Nel primo tempo Bergamo E qui a Bergamo Alla fine del primo tempo Atalanta 0 Lazio 1 Udine Al Friore Linese 1 Genoa 0 Palermo 3-2 per il Chievo Al Renzo Barbera Novara Il Novara In vantaggio sul Cesena Per 1-0 Il gol messo a segno Da Rigoni Al 27esimo Sul calcio di rigore Studio Alle 16.04 Torniamo in diretta Per seguire il secondo tempo Delle partite Della 37esima giornata A Bologna Ha riconquistato palla La squadra di casa Con Rubin In servizio e mezzo Per Divaglio La conclusione Gol Raddoppio del Bologna 2-0 con Rubin Al 18esimo minuto Del secondo tempo Bologna 2 Napoli 0 Bergamo E qui a Bergamo 18 minuti e 30 Per la Lazio E' arrivato il raddoppio Di Flora Flores Per l'Udinese Udinese 2 Genoa 0 Attenzione Geder è entrato in area Il tocco con la mano Di un difensore L'arbitro ben appostato Ha concesso il tiro Agli 11 metri Ancora Rigoni Così come nel primo tempo Contro Antonioli Il tiro Il gol Il 2-0 Quarto gol Del Chievo Autore Pellissie Palermo 2 Chievo 4 26esimo Bologna Napoli A Bologna dunque 2-0 A favore della squadra Di casa Il raddoppio di Rubin Che era entrato in campo All'inizio del secondo tempo Terzo gol del Palermo Dunque a corcia Distanze Con Miccoli Novara realizza Il terzo gol Ancora Rigoni E praticamente Rigoni ha segnato Una tripletta In questa giornata Pareggio del Palermo Con Silvestre Palermo 4 Chievo 4 Ciana E la Lazio Raddoppia Strepitoso Gol dell'Albanese È finita Al Friuli Udinese Batte Genoa 2-0 A te la linea È finita Al Renzo Barbera Palermo 4 Chievo 4 A te Finale anche da Bergamo Atalanta 0 Lazio 2 Bologna Finisce la partita Bologna Batte Napoli 2-0 Il Napoli è quasi fuori Dalla Champions Il terzo posto Solo giocheranno Udinese E Lazio Questa sera Cagliari Juventus E Inter Milan Buonasera Dallo stadio Nereo Rocco Di Trieste Sarà scudetto Questa sera Si dovrà attendere L'ultima di campionato Il tricolore Prenderà la via di Torino O quella di Milano 80.000 spettatori Sugli spalti Per il derby di Milano Una madonnina d'oro In campo Nero-azzurro Con la scritta Tite Dominet Milan In curva nord Alla nostra sinistra Dalla parte opposta I tifosi del Milan Hanno messo in mostro Una coreografia Con un diavolo Che scruta con un binocolo Gli avversari E sotto c'è scritto Vedervi a maggio È tornato un miraggio Squadre che sono già Sul terreno di gioco Siamo ai preliminari E torniamo a Trieste Bonucci Avanza ancora Effettua un lancio In profondità Pallone in aria Vucinici Il tiro La rete Rete La Juventus Sta in battaggio Esattamente Al quinto minuto di gioco La Juventus Sblocca la partita La privazione offensiva Di Lito L'Inter è in vantaggio Diego Milito Al quattordicesimo Del primo tempo Sul calcio di punizione Di Schneider L'assistenza Con un colpo di testa Alla sinistra Di Walter Adriano E Samuel Milito Da due passi Ha spedito imparabilmente Alle spalle Di Cristian Abbiati Ibrahimovic Contro Giulio Cesar La rincorsa Il tiro Rete Il pareggio del Milan Esattamente Al quarantaquattresimo Del primo tempo Cambia il parziale Alla ammeazza Inter 1 Milan 1 Attenzione Ibrahimovic Da rigore Ibrahimovic Scavino Rete Zlatan Ibrahimovic Il raddoppio del Milan Dopo 34 secondi di gioco Nella ripresa Tutto è pronto per l'effettuazione Di questo tentativo Tagli 11 metri Parte Milito Il tiro Rete Ha pareggiato l'Inter Ha pareggiato Diego Milito Il controllo di petto di Caceres Poi il lancio in area di rigore E la rete La rete Delle 2 a 0 Della Juventus Si grata proprio da Borriello Entrato qualche istante fa Con un tocco Che ha spiazzato nettamente Il portiere del Cagliari Sa per partire la rincorsa Del numero 22 Il tiro Rete L'Inter è in vantaggio Al 34esimo Maicon 4 a 2 per l'Inter Gol incredibile Di Douglas Baicon Dalla lunga distanza Un tracciante in diagonale da destra Sotto l'incrocio dei pali La Juventus è campione d'Italia Questa data Il 6 maggio del 2012 Verrà ricordata a lungo Dai tifosi bianconeri Dopo 6 interminabili anni Antonio Conte adesso può liberare Tutta la sua gioia La Juventus è tornata A vincere lo scudetto Un successo non preventivato all'inizio Ma meritato e legittimato Da un campionato eccezionale La Juve gioca il calcio migliore Di tutto il campionato Attacca la partita La comanda La conduce Porta a segno Quasi tutti i suoi uomini Ha subito solo 20 gol Nessuno in campionato La sconfitta Pirlo ha il cervello Arturo Vidale L'incursore efficace Marchisio domina il centrocampo E segna gol pesanti Buffon è tornato ai suoi livelli Stratosferici di rendimento In attacco Lodi a Matri E Vucinic Un artista del pallone Era tempo anni Che non ricordavo Un grande entusiasmo Attorno a questa squadra Il merito è tutto suo Il merito è di tutti quanti noi Iniziando dal presidente Finendo alle persone Che ci curano il campo Tutti quanti siamo Abbiamo resi artefici Di una cavalcata Veramente che ha qualcosa Di fantastico Di straordinario Abbiamo secondo me Avevamo un sogno Ma un sogno Che sembrava lontanissimo Anni luce Inizio anno Però con Grandissima Negazione Con grandissima voglia Disponibilità Da parte dei ragazzi Io dico Che abbiamo fatto È veramente qualcosa Di super Di straordinario Di fantastico Siamo in finale Coppa Italia Quindi io penso Che bisogna Togliersi il cappello Davanti a questi numeri Con Giuliano Curti Andiamo a sentire Le voci Di questa festa Esplosa Dopo tanti anni Di gioia Repressa Negli anni Magri Sicuramente Del dopo Calciopoli Contributo La partita non era Ancora finita E già i tifosi Si erano riversati Nelle strade Nel centro Chiuso al traffico Tutti a piedi Per gridare Siamo noi I campioni dell'Italia Siamo noi Da quanto tempo Aspettavate questo momento? Da quando ci hanno rubato Gli ultimi due Che ce li hanno tolti Però dovete dire Grazie all'Inter Molte Grazie Inter Forza Juve Grazie all'Inter Fino a un certo punto Sono 30 30 a scudere Sono 30 Sempre Forza Juve Volevano vincere Volevano vincere Malanno Manca solo l'atto finale L'ultima giornata In programma Domenica 13 maggio 2012 C'è da decidere Chi andrà in Champions E chi in Europa League In coda In Lecce ha pochissime probabilità Di rimanere in A Ma ci prova lo stesso Intanto la Fiorentina Ha licenziato Deglio Rossi Dopo l'aggressione Agli Aic Per gli ultimi 90 minuti C'è Vincenzo Guerini L'Udinese vince a Catania E chiude il campionato Al terzo posto Porte aperte Ai preliminari di Champions Per la prossima stagione Chi avrebbe mai scommesso In questo risultato Che tra l'altro Era più complesso Dell'anno scorso Bisognava arrivare terzi Sì Noi ricordiamo Che tutti ci dicevano Che per una squadra Come l'Udinese Avere i preliminari Di Champions Come abbiamo avuto All'inizio di questa stagione Poteva essere pericoloso Perché si partiva prima Invece la squadra Ha saputo partire Forte in campionato Ha conquistato Tantissimi punti È sempre stata Nell'alta classifica E adesso festeggiamo Qualcosa Che è ancora più grande Rispetto allo scorso anno Il Lecce perde E saluta la Serie A Lazio, Napoli e Inter Ottengono il passe Per l'Europa League A Stramaccioni È riuscito un mezzo miracolo Per noi Comunque Per a livello anche Societario A livello di immagine È importante stare in Europa In questo momento Ci siamo entrati Dalla porta più piccola Adesso giriamo la Bo E costruiamo una grande Inter Allo Juventus Stadium Intanto Si fa la festa Alla fine della partita Con l'Atalanta C'è la consueta cerimonia Di consegna Della Coppa del campionato Ma a Torino C'è un motivo in più Che rende Juve-Atalanta Una gara speciale 13 maggio 2012 Juventus-Atalanta Minuto 57 Sostituzione per la Juve È un momento storico Questo per la Juventus Per la società Per il club E per un giocatore Assolutamente intramontabile Sta uscendo Dalla terreno di gioco Alessandro Del Piero Il capitano bianconero In segno di ringraziamento E la standing ovation È tutta per lui È l'ultima partita A Torino L'ultimo istante Sul manto verde Dello Juventus Stadium Di Torino Del capitano Del grandissimo Oggi è stata una bellissima E quindi E quindi Riconoscono La cosa carina La cosa carina è che Subito dopo il gol Sono stato battezzato In diretta Diciamo così Perché tutti i miei compagni Sono venuti vicino Faceva molto caldo Quindi si usava Quelle buste di plastica Con dentro Dell'acqua E ne aprivo una Me la schiacciarono in testa A modo di battesimo Del gol Ecco Come sarà la partita domani E ti Raspicio Quello di Magari segno A tre minuti della fine Un gol fantastico Vittorioso E quello è accaduto Quindi Brevetta Un marchio di fabbrica E lo protegge Con il copyright Per i gol Alla Del Piero È venuto spontaneo Non è stato qualcosa Di ricercato È un tiro Che a me Comunque piace E in determinate situazioni Mi è venuto da fare Poi Il sigillo Regale Sulla Coppa Intercontinentale Ma Non è finita Il tacco Al Borussia E la standing ovation Al Bernabeu In una magica Notte di Champions Alessandro Del Piero C'è sempre Nei momenti decisivi Vive in prima persona Il bello E il brutto Del calcio E della vita Il ginocchio Che si spezza Il papà Che muore La rinascita E il gol Al Bari L'europeo Cippato dai francesi E il mondiale Di Berlino Del Piero 2-0 Gli scudetti Vinti sul campo E la scolorina Di calciopoli La serie B Con la Juve Da capitano E la nuova vita In bianconero Orgoglioso Di far parte Di una società Gloriosa E di averne scritto La storia 188 reti In Serie A 289 totali Con la maglia Della Juventus 407 presenze Nel campionato Più di 700 Più di 700 in totale Nelle varie competizioni Sono numeri Che certificano La capacità Di un campione Di rendersi Praticamente Immortale Nel cuore Dei suoi tifosi Alessandro Del Piero Il capitano La bandiera Gli dei Che l'8 novembre 1998 Lo scambiarono Per il Titanic E lo spinsero Verso l'iceberg Del suo ginocchio Sinistro L'hanno poi condotto Al di là Di ogni record Bianconero Daniele ha detto Che ci faceva Un sorpresore E ci va a fare La sorpresa Llevo paghiamo Noi il contratto A Del Piero Glielo paghi tu Il contratto A Del Piero Molto volentieri Per Del Piero Questo è altro Molto volentieri Un'altra esaltante Stagione è finita Un'altra pagina Di calcio È stata scritta Celebrando il trionfo Di una squadra La Juventus Praticamente perfetta A tratti devastante Con il suo condottiero Antonio Conte Che festeggia Lo scudetto Senza perdere Neanche una partita La rivincita sportiva Di un popolo Post scandalo Calciopoli E dopo l'inferno Della B Un campionato Che ci ha narrato Di squadre e campioni Di prodezze E battaglie calcistiche Di gole primati Di ritorni E di addi Come quello Di Francesco Antonioli Che a 42 anni E 235 giorni Decide di chiudere La sua carriera Di portiere Secondo calciatore Più anziano Dietro al solo Marco Ballotta E davanti al mito Dino Zoff O di Rino Ringhio Gattuso Nell'ultima stagione Della sua lunga E prestigiosa carriera I suo addio al Milan Insieme a tanti altri Big Che hanno fatto La storia Del club Rossonero Pippo Inzaghi Gianluca Zambrotta Alessandro Nesta Commuove San Siro In una giornata Indimenticabile Per il calcio italiano Un altro pezzo di storia Se n'è andato Ma è anche Il campionato Di Raffaele Rubino Che con il gol Realizzato Il 26 novembre 2011 Ha segnato In tutti i tornei Professionistici Dalla C2 Alla Serie A Sempre e solo Con la maglia Del Novara Storie e personaggi Che hanno colorato E scandito Le giornate Dei tifosi italiani Ed è per tutto questo Che Campionato Io ti amo Un altro pezzo di storia Grazie a tutti.